Benvenuti a questo nuovo video, sono Orkoverde, in questo video come vedete siamo su ShareFactory sono su ShareFactory per mostrarvi tutti i contenuti, tutte le nuove cose che hanno aggiunto nella nuova versione di ShareFactory aggiunta ieri sera, l'aggiornamento è uscito ieri sera, ripeto, verso le 18.30 ed è durato, sì e no, 10 minuti comunque sia ragazzi hanno aggiunto nuove cose molto importanti, molto utili a molte persone soprattutto alle youtuber che utilizzano ShareFactory per editare quando avviate ShareFactory aggiornato in questa nuova versione noterete che sarà cambiata la schermata principale dell'applicazione ovvero avranno aggiunto due nuove finestrelle tra cui il mio ultimo progetto e la mia galleria nuovo progetto, i miei progetti c'erano già praticamente nella scorsa versione però comunque sia come vedete la schermata principale è stata modificata in questa nuova versione hanno aggiunto la possibilità di introdurre in un solo video due clip quindi per appunto le persone che mostrano money glitch che si fanno in diversi passaggi con più persone potete mostrare anche il passaggio del vostro amico, non solo quello vostro quindi potete introdurre due clip appunto nel video per fare ciò dovete semplicemente premere X dovete andare su aggiungi traccia 2 ovvero la nuova opzione che hanno aggiunto dovete scegliere la seconda clip da introdurre nel video inoltre se volete modificarla comunque sia spostarla in alto a sinistra, in basso a sinistra oppure in basso a destra o al centro quindi in qualunque parte del video insomma potete farlo, dovete premere quadrato dovete andare su modifica seconda traccia poi dovete andare sull'aiute del pip a questo punto dovete selezionare dove la volete spostare in questo caso io ho in basso a sinistra come noterete quando tornate nel video la seconda traccia, la seconda clip sarà dove l'avete messa voi sempre diciamo vedendo la prima clip insomma quindi avrete due clip in un video in più hanno aggiunto due nuove musiche tra cui Gone Tomorrow e Club Valkyrie Club Valkyrie sinceramente non mi piace come musica a mio parere e Gone Tomorrow a mio parere è una musica molto molto figa mi piace un casino secondo me è anche utilizzabile come musica di sottofondo in un video muto specialmente quei video di Running Gun che fate kill sapete no? quei montage di quelle kill che fanno nei Running Gun secondo me ragazzi questa è una musica che potrebbe andare bene proprio per quei video ragazzi questo non è proprio un video tutorial che vi mostro come usare Share Factory era solamente un brevissimo video per spiegarvi tutte le nuove cose che hanno aggiunto nella nuova versione di Share Factory uscita ieri ripeto quindi ragazzi se volevate un tutorial cercatelo da qualche altra parte o su un altro canale perché io ragazzi tutorial non ne ho ancora portato uno insomma e non penso di portarlo in quanto ormai Share Factory lo sanno usare comunque sia tutti ecco non è comunque sia difficile da ora con questa versione Share Factory può scaricare un video da un'ora quindi da massimo 60 minuti non più da 30 ma addirittura a 60 minuti se volete potete caricarlo anche su YouTube ovviamente più il video dura e più ci metterete a caricarlo questo è ovvio poi dipende anche dalla vostra connessione se ce l'avete buona o meno quindi un'ottima cosa che hanno aggiunto su Share Factory per le persone che vogliono caricare sul proprio canale The Wall True di varie serie di vari giochi poi ragazzi ci sono altri cambiamenti però comunque se non ve li sto a dire tutti hanno cambiato un po' come strutturazione insomma hanno cambiato un po' le varie cose ma non hanno aggiunto più nient'altro comunque se potete appunto vederle quando utilizzate questa applicazione se appunto volete modificare un video dovete schiacciare dei tasti diversi per appunto modificarle però comunque se ragazzi diciamo che le cose sono sempre le stesse nella nuova versione rispetto alla vecchia versione comunque se ragazzi hanno aggiunto di nuovo l'opzione sposta clip potete spostare l'ultima clip al primo posto quindi come clip iniziale e viceversa o anche addirittura in centro del video meno male ragazzi perché questa cosa qua l'avevano tolta quando avevano aggiornato l'applicazione di Share Factory a ottobre novembre 2015 se non sbaglio comunque sia l'anno scorso e meno male che l'hanno riaggiunta perché era un po' un casino creare le clip e metterle per forza in fila perché non si poteva appunto spostarla dove si voleva quindi per fortuna Share Factory ha riaggiunto questa opzione e così facendo ha facilitato diciamo la vita a molte persone quindi niente ragazzi ripeto che questo non è un video tutorial quindi non vi ho mostrato come funziona Share Factory ma vi ho mostrato tutte le nuove cose che hanno aggiunto in questa nuova versione di Share Factory uscita precisamente ieri sera alle 6 e mezza di sera appunto io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale condividete questo video i suoi vari social network e da Orkover da tutto noi ci vediamo a prossimo video bella